Il comune di Centola ha bandito un concorso pubblico per la realizzazione di un'opera di street art da realizzare in via Saline di Palinuro con il tema Il mito del nocchiero di Enea. Il bando, pubblicato sul sito dell'ente, dichiara l'assessore al turismo Angela Maria Ciccarini, prevede l'idealizzazione e la realizzazione di un progetto che riqualifichi dal punto di vista estetico ed urbanistico il muro di contenimento prospicente via Saline frazione Palinuro tramite opere di street art e arti visive in generale. Ogni partecipante o gruppi di partecipanti potrà presentare un solo progetto che dovrà avere come tema Palinuro il nocchiero di Enea. All'artista vincitore sarà attribuito un premio di 3.500 euro. Vogliamo, aggiunge l'assessore, sostenere la cultura e promuovere il murale e lo street art come forma creativa e comunicativa delle giovani generazioni in grado di migliorare e rivalutare esteticamente e socialmente spazi e luoghi cittadini. Un'operazione di riqualificazione urbana ma anche un progetto che punta a valorizzare artisti emergenti. Il progetto coinvolge artisti in forma singola in gruppi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età residenti in Italia o all'estero. L'iniziativa intende inoltre promuovere la cultura della libera espressione artistica nel pieno rispetto della proprietà altrui in luoghi reputati idonei dall'amministrazione comunale per educare alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio storico artistico monumentale cittadino. Ogni partecipante o gruppo di partecipanti potrà presentare un solo progetto il cui tema palinuro il nocchiero di Enea libro quinto delle neide potrà essere interpretato liberamente dall'artista. L'opera dovrà essere di dimensioni coerenti con la superficie delle aree di intervento mentre la tecnica di realizzazione è libera purché vengano utilizzati materiali adatti a luoghi aperti. Tra tutti i progetti pervenuti sarà scelto un solo vincitore a giudizio insindacabile di un'apposita giuria che sarà nominata con un atto successivo ad avvenuta scadenza dei termini di presentazione delle domande. La richiesta con il progetto artistico ricorda l'assessore al turismo va presentata entro le ore 12 del 27 maggio all'ufficio protocollo dell'ente. Il testo completo dell'avviso e il modulo di domanda sono pubblicati sul sito del comune di Centola.